Transformer è un complesso di agenti umettanti che favorisce l'infiltrazione, la distribuzione e il drenaggio dell'acqua di irrigazione e piovana. Transformer, grazie alla sua esclusiva formulazione, riduce la tensione superficiale dell'acqua. Questo permette all'acqua di penetrare rapidamente e in maniera uniforme attraverso i macro e i micropori nel terreno, garantendo la quantità di ossigeno necessaria alla respirazione di microorganismi e radici. Gli agrofarmaci distribuiti nel terreno in miscela con acqua solitamente seguono il percorso con minor resistenza ed evitano le zone idrofobiche e compatte, lasciando così aree non adeguatamente trattate. Queste aree non trattate consentono la germinazione dei semi di infestanti e la proliferazione di insetti e malattie fungine. Al contrario, i trattamenti al terreno effettuati in miscela o successivamente l'applicazione di Transformer si distribuiscono uniformemente sia in terreni sabbiosi che argillosi, incluse le zone idrofobiche e compatte del suolo. Il risultato è una distribuzione uniforme nel terreno non solo di fungicidi, insetticidi ed erbicidi pre-emergenza, ma anche di fertilizzanti e biostimolanti. Numerose prove di campo hanno dimostrato che Transformer migliora la distribuzione e l'efficacia degli erbicidi pre-emergenza applicati in miscela. Condizioni ottimali del terreno permettono alla soluzione erbicida di infiltrarsi facilmente anche in terreni asciutti o idrofobi. L'applicazione di Transformer con un erbicida garantisce una distribuzione uniforme della miscela che riduce al minimo le aree non trattate. Inoltre, Transformer migliora la disponibilità di acqua e nutrienti nel terreno, riducendo le perdite per ruscellamento e lisciviazione. Così come per gli erbicidi pre-emergenza, allo stesso modo Transformer garantisce una distribuzione uniforme a fungicidi e insetticidi utilizzati in miscela. Indipendentemente dalle modalità di applicazione al terreno, l'efficacia degli agrofarmaci utilizzati in associazione con Transformer contro malattie e insetti viene incrementata. La distribuzione più omogenea negli strati del terreno garantita da Transformer consente all'agrofarmaco applicato in miscela di raggiungere e proteggere in maniera efficace il seme, la radice o il tubero da malattie e insetti dannosi. L'umettante del terreno Transformer offre anche ulteriori benefici alle colture. Transformer, incrementando la capillarità e la mobilità dell'acqua, favorisce l'allontanamento della CO2 che viene successivamente sostituita da ossigeno e azoto, elementi essenziali per lo sviluppo di radici e microorganismi. La riduzione della compattazione del suolo e la sua migliore aerazione permettono un rapido e vigoroso sviluppo delle radici secondarie. Un apparato radicale ben sviluppato permette un rapido ed efficiente assorbimento di acqua e sostanze nutritive dal terreno e aumenta la capacità della pianta di affrontare stress termici ed idrici. Utilizza l'umettante del suolo Transformer per distribuire in maniera omogenea insetticidi, fungicidi, erbicidi e sostanze nutritive, ridurre il ristagno, il ruscellamento e la lisciviazione, migliorare la gestione dell'acqua di irrigazione, favorire lo sviluppo delle radici, migliorare la disponibilità e l'assorbimento dei nutrienti, aumentare l'aerazione del suolo. Per maggiori informazioni su Transformer, contatta il distributore esclusivo per l'Italia Zaccaria Agro Division o visita il sito www.oroagri.com